Un volto diverso dello sport nel mondo patinato della pubblicità, lo sport povero, fatto di fatica e di sacrifici. Oscar della pubblicità, un gruppo di sportivi testimonial della Gatorade. Vai col video! Quando il tuo corpo ha sete, ha sete di Gatorade, il dissetante sportivo che ridà al tuo corpo il giusto equilibrio idrosaline. Gatorade. Vince la sete e riparte di slancio. Gatorade. Oscar della pubblicità a Gelindo Bordin, Gennaro Di Napoli e Maurizio Damilano. Voi siete venuti a piedi, mi auguro. Loro vanno abitualmente, fanno prima. Di Bordin, da Milano e di Napoli, che vi devo dire? Nulla che non sappiate già, perché tra Olimpiadi vincono, continuamente vincono, sono le nostre medaglie d'oro e sono le ragioni per cui tutti quanti poi pensiamo che l'Italia è fortissima. Sono loro forti e poi finisce lì. Quindi invece volevo fare una domanda che forse è più umana. Spesso vi si è visti nel momento magari della vittoria dopo sforzi, fici spaventosi, disidratati, con una temperatura corporea scesa sotto. Come ci si sente veramente in quei momenti? C'è una sorta di piacere perverso nello sforzo, nello sfinimento? Non lo so, perché... Se tu intendi proprio quando sono quasi stanchissimi, siamo al suolo, pensiamo che ci passiamo per la testa, dopo 40 km così, spesso però meno a me, non so agli altri ragazzi, ma ogni tanto dico per fortuna che c'è Gatorade. Il cantore d'aperto ha creato un mercato che prima non esisteva praticamente ed è il numero uno, ciò direi proprio di sì, in pieno successo. Che cosa vuol dire mezzo fondo? Ti faccio un quiz. Quali sono i mezzo fondo? Quando uno si arrabbia ma ti faccio un mezzo fondo, cioè non veramente, veramente, non è proprio cattivo, cattivo, è una cosa... Un mezzo fondo. 800 e 1500. 1500, che è una cilindrata più grossa. Esatto, è brava, è brava. È parata. Abbiamo ben tre premi da darvi, o uno solo. Ma no, mi importa. No, non ce la farebbero, ve ne diamo uno, ve ne diamo tre, ve ne diamo tre o uno? Com'è la situazione? Uno, qui non è scoppiato. Eh ma che schifo, potevate anche darne... Adesso si litigano. Adesso facciamo una gala. La media situazione io lo so come funziona. Scappa prima. Lui scappa e parte subito sugli 800 come un pazzo e va con questa... Comincia a rallentare un attimo, arriva lui sui 20 chilometri. Poi quando crolla la fecchione, per ultimo, un borino. E via, e si fa... Grazie a tutti. Ciao.